Ciao, sono Anna Fratucello, studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Verona e mediatrice di Palazzo Maffei Casa Museo. Grazie all'iniziativa Art in Action, realizzata con il sostegno della Regione Veneto e il contributo del Ministero della Cultura, Palazzo Maffei offre, oltre a visite didattiche sulla collezione, laboratori pensati per ogni età. Voglio presentarvi la scienza nascosta nell'arte, un'attività di scoperta modulabile per tutti gli ordini e gradi. Si scopre come arte e scienza siano due discipline in stretto rapporto tra loro. Per il coinvolgimento delle classi più grandi della primaria è stato pensato un laboratorio interattivo dedicato alla creazione di una camera ottica. Con l'utilizzo di cartoncini, forbici e colla, i bambini potranno imparare l'arte attraverso l'osservazione scientifica della realtà. Vi aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!